Ok dovremo diventare dei supereroi ma randomizzati Pronta Zoe? Adesso giriamo questa ruota della fortuna e vedremo chi uscirà Prima esco io Vediamo cosa mi esce Ok mi sa Luce! Io diventerò un supereroe della luce Mentre tu Zoe sarai Vediamo Osso Ossa Ossa sì Bene eccoci qua Luce! Oh mio dio Ok Oh mamma mia abbiamo fatto vincere il caso Cioè questa volta vediamo cosa accade Ok Sì infatti Allora muri Guarda già in realtà ti ricordi che abbiamo già giocato questa modalità Sì sì Abbiamo già alcuni soldi che avevamo fin da prima Quindi meglio così Bellissimo Ti ho dato conto che tipo 3000 dollari Che li sto già usando tutti quanti Sia per il casale che per i creatori di casse Sì pure io ho già iniziato a fare le cose qui Sì pure io pure io Ottimo ora devo arrivare solamente a 3000 Ability pad Vero già posso sbloccare la mia prima abilità Light saber Che sarebbe praticamente una spada laser O meglio una spada di luce Io ho tipo una falce No una falce Ok ragazzi andiamo a provare Ah voglio provare Niente quello è già partito via Dove sei sbrite? Non ti vedo io Tu dove sei? Eccoti oddio Vediamo falce contro spada di laser o di luce Vabbè uguale Ok No tu fai di più Tu fai 13 Però sono pure scarsa Io No perché mi stai colpendo Ti ho colpito e ti ho ucciso Ma che è qualcuno Io avevo 12 Tu facevi 13 Ma ti ho comunque ucciso Ti ho fatto fuori Perché mi avrei colpito una volta in più Ma c'è qualcuno che era entrato dentro casa mia Viene erroneamente Ma? Ti giuro Non ci dirò Ok Se è andato via L'ho visto speciale proprio Ma io se metto Intanto le porte laser Così che tu non entri Ah certo Ok 3000 E prendiamo già Oh vediamo la prima abilità Ok Light ball Wow Posso lanciare una palla di luce Io ho un blaster Vieni vediamo chi vince adesso Con due Avendo due abilità Oddio c'è un notizio che è thunder Oddio mi fa molto paura Cosa vuoi tu? No Mi vuole far fuori Mi ha fatto fuori Lo faccio fuori pure io Eh cavolo è fortissima Perché aveva più abilità lei Vediamo se riesce Ora faccio io fuori Brava 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 Ma sei morta pure tu Come fa? Ah perché ci aveva il suo goblin Che l'aiutava Vabbè a posto Così siamo a full vita Vieni 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 Ok proviamo e vediamo cosa accade Ci sei? Pronta Ok Ok Ah pure tutta lontano Ok Già No questa volta Morirai pure tu Ma come questa volta? Che vuol dire? Ah no Oddio l'ho saltato No mori Sì 2 HP 2 HP 2 HP Oh mamma mia Ok 6.000 dollari Riprendo più che volentieri Dropper 5 Ecco Ok dobbiamo arrivare a 5.000 Ragazzi Ecco già ci siamo E ho preso già la terza abilità Ok Light Orbs Ok Sono delle orb di luce Quindi in teoria sono praticamente Delle piccole sfere energetiche Io ancora non la posso prendere No Oddio Ho preso il dropper Per fare più soldi Io invece ho trovato una cassa che è appena scesa da un palloncino Cosa ho fatto? Cosa ho beccato? Forse dei soldi in più Può darsi Può essere Oh ma io potrei provare ad uccidere quel tizio Vai Ok sbrigati Sbrigati Zoe Oddio Eh devo arrivare a 5.000 Ah ah Ho lanciato una palla Ok forse è meglio se me ne rientro Ok Zoe attenta Ti stanno lanciando le cose Ah sì Mi sto da lontano Ok 9.000 Vediamo dove stanno le Skulled Così posso andare avanti Skulled 8.000 Second floor Ok E' ma un sacco però Uffi Oddio c'è qualcuno che vuole Ok ho sbloccato la nuova abilità Cos'è? Bones Barrage Ma che stupido Uno ha provato ad entrare dentro da me Però è morto con il laser Ah E te l'ho detto che ho fatto bene io Ok Ma però pure io ce l'ho Ho fatto le scale Finalmente Ok Big ability pad Dai Dammi le no 23 mi Ok Mi sa che dovrò aspettare Un sacco Sì infatti Mamma mia Ok Oh chi è questo tizio che sta provando a salire? Ah è Zoe Ciao Zoe proviamo pronta 3 2 1 Via No ti ho mancato di nuovo Non vale No Oddio No ho fatto una cosa strana No Sono morto da solo Sono morto da solo No te l'ho fatto io a te Non mi hai fatto neanche un po' di danno Ah mannaggia Lo vedo che non ti sto facendo danno Non ti riesco a prendere Sono fortissimo Che palle Non riesco a prenderti Quanti soldi mi servono per andare avanti con le abilità? Eh certo Sono a 16.000 Ok Bene Adesso Vediamo Ok sono a 23.000 6.000 Healing pad Ok Elemental pet Ah Elemental pet Oddio Ho un pet Che fa questo pet? Non lo so Elemental body Oh Adesso pure La mia armatura di luce Ma chi cacchio sono? No Zoe devi vedere che cacchio di Ma che cosa Ma come sono vestito? Sembra non lo so Un personaggio di Giorgio Oddio Di Giorgio Di Giorgio Eh oddio stradissimo Ok Sono dietro di te Ah che ci fai qua? Guarda Eh eh Non te lo dico Ah ma che figo Sembri tipo un milionario Ah Gli ho fatto una guata Non te la saresti mi aspettato Ma che guata È stato proprio Non te la saresti mi aspettato Mortissimo No è stato proprio un tradimento Io mi sento abbastanza tradita Sinceramente Ah non me ne importa niente Io sono fortissimo Non te ne importa niente Gamepad Oh qua posso curarmi Bello Ottimo Mettiamo altra Proprio così Ecco Perfetto Ma vabbè ma quanto costa? Ma il terzo costa 200.000 Il terzo Ma come ci arrivo? Eh 200.000 Perché tu sei già al terzo No è 22.000 Sì No il terzo Il terzo piano Io vedo 200.000 Ah Tier floor Eh sì Eh beh Dai prova a vedere qual è il tuo La tua armatura Sono curioso Eh ma ancora Vieni qua Vieni qua Vieni qua No no ti ho mancato Sì Manca poco E la faccio fuori Perché non mi fa mettere il coso? Oh no 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 Ah Vieni qua Non ti riesco a prendere No ti ho mancato No ti ho mancato Ah ti ho preso Ah Ok 16.000 Ma io non riuscirò mai a diventare fortissimo così Cioè Ci metto troppo Troppo tempo Big dropper Vediamo quanto mi dà questo big dropper Cacchio La terza abilità Cioè l'abilità più forte Però la terza del secondo piano Insomma mi costa 23.000 dollari Mamma mia Eh sì E te l'ho detto io 16.000 Ok Oh guarda Quanti pacchi ci stanno in mezzo alla piazza qua Ma io non capisco Vite i soldi Proviamo a vedere Sì mi dà dei soldi Ok Sì Non me ne potete lasciare uno però No invece no Anzi Prendi questo No cacchio Mannaggia Non ti ho preso più Dove sei Eccoti No Cacchio Ma non ci arrivo No Mannaggia Oh Oh Ti ho preso No Ma dove vedo come se ne va Oh che cavolo Nicola 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 Aia Mannaggia dove sei Non ti vedo Eccoti No Sì No cavoli No Vieni qua No Vieni qua Vieni qua Sai che stai morendo Dai No Manca poco Ah quanto ti muovi Manca poco Che c'è tutta la vita Manca poco E muori Vieni qua Sì Cavoli E ora manca poco No Dove sei Vieni qua Vieni qua Manca poco Ah dove sei Oh sì Manca poco Vabbè io voglio soldi Movi di qua No No Non scappare Che mezzo di cacca Ti mancava un HP Mannaggia La considero comunque una vittoria No Sì invece sì Abilità numero tre Vediamo con cosa possiamo fare il culetto a Zoe quest'oggi Ok Ok Ci siamo Ok Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' Oh ma no Ma devo mettermi l'armatura Ma perché non mettiti l'armatura Dai Ancora non ce l'ho Anzi mi metti Il pet è che non so che cacchio mi serve Ah forse mi da più vite il pet Ah Sì Mi sa di sì Oddio Esci fuori Zoe Esci fuori dai Wow Ma Ma che cos'ho Ma che è sta cosa Ma cos'era Ma cos'era Non lo so Non l'ho capito Non so Non ho capito cosa è sta cosa Mi sa che è un overboard però sotto forma di osso Ma Non lo so Non me lo fa più usare Ma come no Ma scusa Mi ha sbloccato Già la seconda abilità Zoe Mamma mia C'è l'overboard Ma che cacata Shooting star E le mie invece sono tutti colpi tipo da combattimento Fortunatamente Bellissimo Dove sei tu A casa mia Perché non vieni in Che vuoi dalla mia casa Dai vieni qua Voglio provare questa nuova abilità Dove sei Oddio Ma c'è un cacchio di UFO che mi arriva addosso Oh vieni qua Ah Cacchio Aia Oh svegliati Non mi si sveglia Basta Vieni qua Vieni qua Vieni qua Dopo un po' Dove sei No 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 Dove sei Vieni qua Vieni qua Ah ti ho preso Oh ti ho preso Sì Mamma mia Dove scappi Non mi 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 scappi Sì Eccoli qua Ti ho ucciso Ho rubato Delle cose Oh cos'è quella palla Gigante Non lo so Ma scusa Aiuto dove sto andando Ah cacchio Sono entrato in quello sbagliato Tu ho Ma io ho fatto 390.000 di soldi 390 mila soldi e ho già il terzo piano setta forse mi sa che posso già comprarmi un'abilità air strike super truck walls no non minano altre abilità ma impossibile super truck super dropper ah madò mi dà ancora più soldi così boost ok il resto sono non sono c'è sono tipo pozioni di guarigione e tutto il resto che cos'è sta cosa è morta si è morta ma guarda te ma guarda te come arriva dal nulla e prova a far fuori me io che sono impossibile da battere impossibile da scalfire impossibile da ma gioia ma ti becchi ma voglio vedere la tua cavolo di armatura dai va bene ce l'ho oh finalmente dai vediamo come sei vestita dove sei vieni sto vestendo ok mi sono vestito ah ho l'ultima abilità ho altre abilità non me ne sono accorto light speed cos'è la light speed vediamo cosa accade dove sei nel tuo coso ed esci dove sei non ti vedo qua sono dove sei tu sono fuori da casa mia ma sei sense oddio sono diventato velocissimo non mi prendi più furiosa velocissimo ti ho rubato il coso come mi hai rubato il coso come mi hai fatto ma sei morta ti fai di cosa voglio vedere la tua abilità aspetta il super dropper ma il super dropper mi da mi darà un sacco di mi da 200.000 botte il super dropper ma adesso io praticamente non c'è bisogno più di di cioè ormai ho raggiunto veramente il massimo del massimo oddio dove mi sono ah no non mi sono pagato più cosa ho fatto dove cosa ho fatto oddio era l'ultima abilità era la mia ultima abilità si era tipo un una roba su oh security on security on ok adesso pure la sicurezza in casa dove sei voglio vedere voglio vedere l'ultima abilità però facciamo fuori perché altrimenti un casino ma do 4 milioni ciò dove sei ma come ho fatto tutti questi soldi e ha una scala ho creato una scala pure da fuori così giusto per completezza che guarda guarda cosa so fare vieni qua ho paura ooooh gaffigata era un raggio della morte che potevo dire indirizzare niente insomma io sono diventato fortissimo cioè non non ho più ma è ovvio c'è tutte le cose oh guarda 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 combatto contro questo vai sì tanto io sono morta ma che fa oddio ma ci sta una coppietta fidanzata svrie in che senso dove la vedi è che nella chat vedo cuori cuori babe oddio io have been no non penso che sia una coppietta fidanzata solo che si inviano cuori zoe è però uno ha scritto babe ah ok che tristezza e vado un attimo nell'air strike che lo sblocco tanto sono a 10 milioni e vediamo cosa faccio questo ristrike oddio posso inviare un missile gigante a qualcuno esci fuori di casa proviamolo certo quale sei tu aspetta questo sono io 100 100 questa qua sei te qualcuno ci sono a distanza oddio quel chizio lì vabbè ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando andate a guardare questi altri nostri video ci vediamo al prossimo video ciao ciao